L'Ui University Club dell'Ateneo di Arcavacata di Renda ha ospitato la presentazione dei risultati del progetto PON sul servizio di gestione integrata e sostenibile del ciclo acqua-energia nei sistemi di drenaggio urbano. Due anni di lavoro all'Unical con relativi studi di osservazione e ricerca, analisi e percorsi formativi professionali riservati ad un nucleo di giovani ingegneri appositamente selezionati e sotto la direzione del responsabile scientifico Patrizia Piro del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Ateneo di Arcavacata. Mai come adesso, in momenti in cui si stiamo a fenomeni in cui l'acqua provoca danni, è urgente chiederci perché ed è obbligatorio e doveroso dare delle risposte. Cioè l'acqua non provoca danni in quanto materia prima, fonte di vita, ma perché non è rispettata dall'uomo? Perché i processi antropici hanno messo mano laddove è un territorio che l'acqua si riprende, perché laddove interveniamo con opere scorrette o addirittura senza opere in un territorio dove l'istesso idrogeologico è fondamentale, dove bisogna intervenire per prevenire quello che può succedere. L'uomo ha tutte le competenze per farlo, poi non possiamo assolutamente intervenire a posteriori su un processo che era poi naturale, quello di un fluido che si è rieppropriato di quello che gli appartiene. Il progetto ha incentivato la cooperazione e i legami tra le diverse aziende del settore delle acque e gli enti di ricerca in una logica di coerenza con le strategie di programmazione nazionale e comunitaria. Un lavoro corposo che si è svolto mediante le attività di ricerca e di sviluppo sperimentale riguardanti il controllo degli afflussi alla rete di drenaggio, il controllo del carico inquinante dalle acque di dilavamento, i benefici termoenergici delle installazioni e le potenzialità di riuso delle acque meteoriche inquadrabili nel settore delle best management practice come opere a basso impatto ambientale. Il monitoraggio ambientale per tutti gli aspetti che coinvolge è evidentemente un tema all'ordine del giorno. Il problema è che le tecniche che sono state utilizzate nel secolo scorso sono tecniche costose e non permettono un monitoraggio completo e sistematico del terreno. Queste nuove tecniche che stiamo cercando di mettere a punto, ormai non sono nuovissime, però hanno una decina di anni, stanno in fase di superamento della fase di rodaggio per poter diventare delle tecniche che possono essere utilizzate in maniera sistematica nel monitoraggio ambientale. Fare il monitoraggio ambientale con queste tecniche per un'azienda agricola potrebbe essere troppo oneroso, far solvolare un aeroplano ogni giorno su un'azienda è troppo oneroso, però se a livello regionale si mette in piedi un aeroplano superleggero come ho fatto vedere per monitorare continuamente larghe fette del territorio, basta un aeroplano che di giorno in giorno solvola il territorio per avere sotto controllo tutto un territorio grande quanto la Calabria.